Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la breaking news in A1 tra Firenze in pruneta incisa verso Roma. Si segnalano 11 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco al km 311. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Si registrano inoltre 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze per chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Firenze in pruneta dove si è creata una coda. Seguire le indicazioni per Siena per correre il raccordo Siena-Bettogli e rientrare in autostrada a Valdichiana. Ci spostiamo in A11 dove troviamo code a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio Colla 1. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che sono in corso le asfaltature in vista del Tour de France. In settimana al via la prima fase dei lavori in Viale Giannotti. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportale di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.